Bene, buongiorno a tutti, sì è vero mi occupo dell'osservatorio fatturazione elettronica e dematerializzazione e di fronte ad un titolo come questo, innovare i processi per rispondere meglio alla complessità, la domanda lecita è che cosa diavolo c'entra la fatturazione elettronica e la dematerializzazione che è uno degli elementi, forse uno dei più piccoli in un contesto così ampio come ne discutevamo prima, questo titolo ci richiama. Ecco in realtà evidentemente nel mondo degli osservatori mi occupo anche di altre cose, nell'ambito degli osservatori stessi ci sono anche iniziative che guardano i temi dell'agenda digitale e così via, avendo seguito parte di attività su questo fronte legate un po' ai temi che da sempre seguo sul fronte della ricerca, ovvero la gestione della relazione tra la pubblica amministrazione e il mondo dei fornitori, quindi di fatto le imprese italiane, proverò con la mia presentazione a dare proprio un quadro di riferimento mettendo qualche numero, qualche dato sul tavolo e qualche potenziale criticità specifica. Allora, tanto per cominciare vorrei provare ad inquadrarvi che cos'è la spesa pubblica in Italia e quali sono le due criticità che l'analista che si avvicina al tema della spesa pubblica italiana, un tema decisamente dibattuto e attuale ma ben lungi dall'essere noto e presidiato, vedremo, rappresenta senza dubbio il punto di partenza. Guardando quindi dal taglio della spesa pubblica il tema della gestione della complessità, passo dalla fatturazione elettronica, me lo perdonerete ma occupandomi prevalentemente di un osservatorio che si chiama così, è quasi naturale, per poi cercare di dimostrarvi con i due punti successivi che la fatturazione elettronica, virgolette, serve a poco o meglio serve a tantissimo se in relazione ad altre attività che cercherò di mettere sul tavolo. Tanto per cominciare, allora partiamo dalla spesa pubblica italiana per capire qual è questa complessità crescente da dover gestire. Inizio malissimo dal mio punto di vista perché io porto sempre, mi vanto anche di questa cosa, di portare dati molto aggiornati. Ebbene, questi sono dati del 2012, non hanno niente a che vedere con il concetto di molto aggiornato dal mio punto di vista, però sono dati su cui abbiamo una dimensione di ragionevole confidenza. Eh già, perché l'analista, tipicamente, l'analista medio, qualunque sia il suo contesto di derivazione, accademico, ricerca, eccetera, eccetera, ha a disposizione informazioni sul mondo della spesa pubblica, è un tema pubblico, solo che le ha a disposizione con una dimensione di ragionevole certezza circa un paio d'anni dopo che questa è stata sostenuta. Noi sappiamo subito come viene attribuita, come viene ridistribuita all'interno delle diverse realtà, ma non sappiamo che cosa è stato acquistato, non sappiamo perché, e queste cose si ricostruiscono dopo, in seconda battuta. Quindi, tipicamente, questa è una delle fotografie che oggi possiamo definire più aggiornate, circa 800 miliardi di euro, in cui vedete sotto com'è composta percentualmente, voto per pieno, questa cifra, più o meno, poi c'è anche qualcosa di residuale. Io, in particolare, in questo contesto, voglio provare a prendere la complessità della gestione degli acquisti di beni e servizi, che a loro volta si ripartiscono più o meno in questo modo, per tipologia di PA e per tipologia di acquistato, lo vedete sotto. Bene, è un cruscotto sufficientemente ragionevole che ci fa pensare che la spesa pubblica sia, perlomeno, nota. Ecco, proprio il ritardo con quello si riesce a monitorare in modo efficace, implica che nel momento in cui si fa politica, politica è la traduzione in un contesto molto particolare, diciamo quello governativo, del termine che nel mondo aziendale è definito strategia, cioè capacità di riuscire a pianificare nel lungo periodo, se io non ho dei dati credibili e ho dei dati un po' vecchiotti di due anni, nel momento in cui faccio una politica di attenzione alla spesa pubblica, rischio, in modo decisamente evidente, di andare a tagliare con l'approccio a pioggia. E questa grande novità non è affatto una novità, cioè è quello che abbiamo vissuto fino ad oggi. Riuscire a controllare che cosa c'è all'interno della spesa pubblica è un'opportunità perché facilita il processo decisionale e inverte l'approccio dal taglio a pioggia al taglio un pochino più mirato, perlomeno consapevole. Se questa però è la situazione di partenza, proviamo ad andare a vedere che cosa è stato fatto su questo fronte per provare a migliorare le cose. Parto proprio dalla fatturazione elettronica, complessità senza dubbio rilevante, gestione della spesa pubblica, fatture mandate dai fornitori alla PA, fatture che vengono dal 31 marzo scorso su tutta la pubblica amministrazione inviate in formato elettronico strutturato, questo è un elemento senza dubbio positivo, piace anche molto all'Europa, il tema del elettronico strutturato consente ai sistemi di accedere direttamente alle informazioni che stanno per esempio all'interno della fattura. Come sta andando questa esperienza? Beh questo è un grafico che inquadra i volumi di fatture ricevute mensilmente a partire dal 6 giugno 2014 quando di fatto è partita la fatturazione elettronica, vedete che è basso fino al 31 di marzo perché semplicemente riguardava la pubblica amministrazione centrale e poi ha impattato sulle pubbliche amministrazioni locali. Lasciatemi dire che parlando con chi stava dietro a questo tipo di progetto, ogni tanto trovavo anche la sensibilità di qualcuno che diceva la pubblica amministrazione centrale, essendo la pubblica amministrazione centrale è una parte rilevante della spesa pubblica, no, assolutamente no, ma anche questo è un tema di mancanza di consapevolezza di qualcuno che lavora sulla spesa pubblica, naturalmente si dice peccato ma non il peccatore. Tipicamente esistono un paio di elementi diciamo così di falsi miti, la PA centrale spende più della PA locale, quindi il centrale spende più della regione, che spende più della provincia, che spende più del comune, è esattamente il contrario, ma proprio il contrario, il comune, soprattutto il grande comune, spende infinitamente di più di una regione, ma infinitamente di più di una regione. Nelle regioni, se guardiamo al budget della sanità, abbiamo un'esplosione del valore della spesa all'interno delle regioni. Ecco, questi elementi di consapevolezza sono evidentemente da tenere in buona considerazione. Però, torniamo alla fatturazione elettronica, vediamo che ne abbiamo scambiate quasi 17 milioni, quasi 17 milioni funziona, quindi l'infrastruttura sì, bene, e funziona anche abbastanza bene, perché dal punto di vista dei rifiuti delle fatture che vengono mandate a questo ecosistema, il numero di quelle che vengono scartate per qualche dimensione di errore è davvero limitato, 6.3%, uno dice come fai a dire che è limitato il 6%, beh, in prima battuta perché in passato era più alto questo numero, quindi c'è una dimensione di miglioramento, in seconda battuta perché quando le imprese fanno progetti analoghi, si chiamano the electronic data interchange, in cui si scambiano dati in formato elettronico strutturato, tipicamente nei primi tre mesi di attività hanno un tasso medio di rifiuto nettamente più alto di quelli su cui ci stiamo assestando ora, quindi vuol dire che per quanto complesso a partire da un percorso di apprendimento si riesce ad andare decisamente più veloci. Quindi messaggio su questo fronte, la fatturazione elettronica nel nostro paese è partita, è partita con un obbligo che quindi significa è partita in modo decisamente forte, non è un'abitudine su questo fronte, quello che riusciamo a fare anche sul fronte dell'innovazione digitale, qui ha funzionato e oggettivamente sta andando abbastanza bene. Primo bilancio rispetto alle attese, quindi sappiamo che prima della fatturazione elettronica parlavamo di circa 100.000 fornitori del mondo delle imprese, fino a 2 milioni all'anno considerando quelli che mandano anche soltanto una fattura a una pubblica amministrazione locale. Questo dato non esisteva, è un dato stimato, peraltro stimato dal nostro osservatorio e come tale rappresenta una prima dimensione di incertezza. Per quante fatture? Anche questo è un dato che non esiste, nessuno sapeva prima della fatturazione elettronica quante fatture riceve l'APA, sempre stimato da noi 50 milioni circa all'anno. E tendenzialmente per quante pubbliche amministrazioni? Non si sa. Ora fino al 6 giugno 2014, sembra ridicolo, ma fino al 6 giugno 2014 l'APA non sapeva con certezza quante erano le pubbliche amministrazioni nel nostro paese. E questo è un piccolo elemento di soddisfazione che si è portata a casa Agid con il percorso sull'indice della pubblica amministrazione, che serviva peraltro per la fattura elettronica. Ora, soltanto alla luce dei primi mesi di fattura elettronica all'APA sappiamo che ad oggi sono almeno 452 mila, forse 7 mila adesso il dato più aggiornato, i fornitori che hanno mandato una fattura all'APA, per circa 17 milioni di fatture fino ad oggi, e sono quasi 55 mila gli uffici destinatari di fatture. Ora, il mio primo messaggio è attenzione, cioè questo dettaglio della fatturazione elettronica ci permette di dire ora com'è costituito un ecosistema che fino a prima di giugno 2014 si conosceva più o meno a spanne. Non vi parlerò del fenomeno che c'è stato di alcuni enti che non sapevano di essere PA, altri che sapevano di essere PA ma speravano di non esserlo per non fare la fattura elettronica e quindi hanno cercato di togliersi dal registro dell'indice della pubblica amministrazione e altri ancora che hanno scoperto di essere PA, dopo qualcuno li ha sollecitati dicendo guardate che non avete messo il vostro codice su IPA, ma noi non siamo una PA, no, voi siete PA. Non vi parlerò nemmeno delle PA che credevano di essere centrali, invece sono locali e viceversa. ecco tutto questo c'era e tutto questo non c'è più. La fattura elettronica su questo senza dubbio ha consentito di fare un pochino di chiarezza, perlomeno ha rimesso a posto un pochino di punti ed è un primo step di gestione di complessità parlando almeno di spesa pubblica. E come ci siamo detti tendenzialmente è una dimensione di impatto che va a toccare un numero di imprese decisamente rilevanti. Allora tanto per cominciare facciamo un attimo di sum up su quello che è il sistema economico italiano, così capiamo un attimo che cosa vuol dire il nostro sistema economico. Vuol dire che di grandi imprese ne abbiamo 4.300 su circa 5 milioni di partite IVA attive che fanno qualcosa di più che nascere o morire nel corso dell'anno, le complessive sono circa 6 milioni, 4.300 sono legate a grandi imprese, 250.000 sono le piccole e medie imprese, se togliamo a circa 5 milioni 254.300 troviamo circa 5 milioni di realtà microscopiche, cioè micro imprese tra due e nove addetti e addirittura 3.2 milioni di imprese individuali. Un primo dato complessivo è che questo numero di circa 5 milioni è una costante, ce lo portiamo dietro da diversi anni, davvero molteplici, una decina forse qualcosa di più, è un po' cambiato il mix qua dentro, è cresciuto moltissimo il numero delle imprese individuali e si è ridotto evidentemente quello delle imprese un pochino più strutturate, questo non è necessariamente un indicatore di rafforzamento del sistema economico, però questa è la situazione attuale, se sono 100.000 i fornitori che toccano la fattura elettronica e magari fino a 2 milioni considerando anche quelli che lo fanno sporadicamente, la fattura elettronica ha un ruolo culturale, quello di portare sul fornitore dell'APA la consapevolezza che mandare un file in formato elettronico strutturato è possibile e tendenzialmente dopo magari qualche mal di pancia iniziale è anche facile, perché fatto una volta si ripete abbastanza facilmente. Questo è un ecosistema per cercare di raccontarvi che cosa vuol dire la fatturazione elettronica nel percorso di riduzione della carta a cui sono chiamate le pubbliche amministrazioni, è animata, quindi così non si capisce, il tema è c'è della carta che gravita nel mondo della PA e delle imprese, lo vedete lì sopra PA e imprese e sotto ci sono dei contenitori di flusso, il flusso informatico in cui questa carta si deve trasformare, non è il documento che si trasforma, è il processo che si digitalizza. Ecco la fattura elettronica fa esattamente questo, impone a tutti i fornitori dell'APA di cambiare le loro regole, di mandare dei file in formato elettronico strutturato e quindi una buona parte del cartaceo in ingresso, almeno sul fronte fattura per carità, dell'APA si trasforma in flusso, ma questo implica che alcune imprese hanno già capito che forse è meglio guardare alla gestione dell'attivo se l'APA è uno dei nostri clienti in modo astuto e quindi magari mandare a tutti questo tipo di processo, diciamo così, di documento in formato elettronico strutturato. Questo ha un effetto richiamo sul mondo delle imprese che scoprono che in ingresso iniziano ad avere file in formato elettronico strutturato, che quindi possono essere dati in pasto direttamente ai sistemi informativi bypassando una serie di attività amministrative. Su questo fronte poi c'è qualcosa ancora di più, il fatto che se mi accorgo che l'atto passivo riesco a digitalizzare qualcosa, a questo punto sono io in presa che vado dai miei fornitori e gli dico senti scusa ma non è che mi puoi mandare le fatture come le mandi all'APA? Perché io risparmio molto e questo è un ulteriore modo per riuscire ad abbattere quella carta. E infine c'è lo schema di decreto legislativo ormai completamente decreto legislativo 127 che porta, stimola attraverso degli incentivi alla fatturazione elettronica anche nel B2B e questo è un ulteriore stimolo a togliere la carta di mezzo dal mondo del ciclo attivo e del ciclo passivo non solo verso la PIA ma in generale tra le imprese e questo porta evidentemente, almeno se l'animazione è stata efficace, a una riduzione della carta che circola nella relazione PIA-imprese. Direi quindi che il valore culturale di questa innovazione è senza dubbio importante quanto impattante, però è un piccolo dettaglio perché se la pubblica amministrazione riceve la fattura in formato elettronico e dietro non mette una gestione di workflow informatizzata che consente di gestire la fattura in formato elettronico semplicemente avrà probabilmente costi uguali a prima se non addirittura maggiori, ma se dietro riesce a dotarsi della giusta dimensione di digitalizzazione ha un abbattimento drastico dei tempi amministrativi e questa cosa non lo dico io che sono invasato, lo dicono le imprese che lo fanno da anni e che su questo fronte hanno ridotto drasticamente il personale amministrativo. Certo non si può ridurre il personale della pubblica amministrazione, no? Ho colto la dimensione di brivido lungo la schiena quando ho detto questo tema, ma se dobbiamo mantenere il servizio al cittadino inalterato a fronte di una riduzione delle risorse disponibili, avere risorse, in questo caso chiamo le persone risorse, questo è molto sgradevole ma sono ingegnere, quindi avere risorse che fanno attività non ha valore aggiunto senza dubbio non è un elemento di valore. In questo caso quindi guardare la fatturazione elettronica bene, ma guardiamola nel ciclo più ampio, come peraltro sta facendo unica tra tutte le regioni in modo decisamente serio proprio l'Emilia Romagna, che guarda al mondo della fatturazione elettronica come a un qualcosa di coeso con tutto ciò che è la relazione dei fornitori e integra tutto quello che riguarda la relazione della pubblica amministrazione con i suoi fornitori. Questo è un percorso che evidentemente richiede una serie di progettualità e una serie di elementi specifici che però sono in grado di portare benefici in termini di risparmio sulla riduzione dell'attività non ha valore aggiunto decisamente impattanti. Qua ho una slide che si compone da sola e che vi dà un'idea di quello che è il valore che si può portare a casa in termini di gestione di progetti di digitalizzazione proprio nella relazione tra un cliente, nel caso specifico potrebbe essere l'APA, ma lo sono molte altre imprese che in questo percorso stanno muovendo passi convinti, e i loro fornitori. L'integrazione complessiva di tutta questa relazione in formato elettronico strutturato ha un impatto debordante, fino a 30-80 euro a singolo ciclo, un ordine che diventa una consegna, che diventa una fattura, che diventa un pagamento, risparmiati, prevalentemente facendo leva su un risparmio in attività di mano d'opera. Questo significa non tanto usare la tecnologia, ma rivedere i processi di gestione di questo ciclo. Per mettere a fuoco, chiudo, per mettere a fuoco e controllare e gestire la spesa, quindi tornando all'inizio, la fatturazione elettronica non basta. Oggi vediamo la spesa pubblica più o meno in questo modo, cioè non si capisce molto bene, sappiamo che lì dietro c'è scritto spesa pubblica, ma è quanto meno sfocato. Cosa succede quando vediamo qualcosa di sfocato se siamo da un ottico, da un oculista, che ci mettono delle lenti per riuscire a vederlo meglio? Ecco, alcune di queste lenti sono state sviluppate, c'è il sistema SIOP che monitora i pagamenti dell'APA ai fornitori. Bene, questo ci dà un'informazione sulla spesa sostenuta, non sulla spesa pubblica. C'è il mondo del public procurement, di cui dopo parleremo, che è un ottimo strumento per controllare la spesa prevista, guardando a che cosa effettivamente serve, ma anche questo non basta. C'è la fatturazione elettronica, che guarda al monitoraggio della fattura, che di fatto è un monitoraggio della spesa impegnata. Presi singolarmente questi strumenti, non valgono un granché. Presi in modo coeso, sono una mole di dati che consente realmente di inquadrare la spesa pubblica. Ora questa mole di dati è disponibile e rappresenta un ottimo starting point. Ecco, però non lasciamoci fregare, cioè non è che serviva a fare tutto questo necessariamente, ci sono anche altri strumenti, e dopo mi auguro ne parleremo, che consentono di andare a mappare la spesa anche guardando a informazioni prevalentemente destrutturate e avere un primo step di spending review. Con un po' di benefici, questa è un'infografica che vi lascio, guardare ai temi dell'agenda digitale su alcuni dei processi a minore valore aggiunto nell'ambito della pubblica amministrazione implica provare a raggiungere benefici decisamente del valore di qualche finanziaria. Quindi, in sintesi, il mio messaggio è che digitalizzare la relazione tra le imprese e la pubblica amministrazione è sostanziale e imprescindibile. E lo si può fare in tanti modi, io mi auguro che venga fatto in un modo fortemente governato, perché tanti dati diversi che fanno fatica a parlarsi tra loro sono quasi come non avere dati che si parlano tra di loro. Invece la gestione del dato è sostanziale e spero di averlo messo sul tavolo.